Ti sei mai chiesto quali oscuri segreti possano celarsi dietro gli scambi di messaggi tra due persone prima di un tragico evento? Oggi esploreremo i dettagli di un mistero intrigante, i messaggi confidenziali di Manuela Lewis prima dell'omicidio di Pierina. Cosa nasconde questa conversazione e quale impatto ha avuto sulla tragica vicenda che si è consumata la sera del 3 ottobre scorso? Sostienici mostrando il tuo interesse con un like al video e iscrivendoti al canale per rimanere aggiornato su questo caso. Nell'indagine sull'omicidio di Paganelli, gli investigatori focalizzano la loro attenzione sui dialoghi segreti tra Manuela Bianchi e il suo amante Lewis, da Silva. Al centro delle indagini c'è la preoccupazione di Manuela per la decisione imminente degli anziani dei testimoni, di Geova riguardo alla loro relazione prebita. Il 13 novembre 2023 emergono messaggi intimi che gettano luce sul mistero. Manuela condivide con Lewis la sua ansia per un incontro imminente con gli anziani della congregazione di Miramare, diventando così protagonista di una storia sotto la lente degli investigatori della squadra mobile di Rimini, guidati dal sostituto procuratore Daniele Paak. Quali motivazioni credi possano aver spinto Manuela a confidare le sue preoccupazioni proprio in quel momento critico? Questo mentre cercano di svelare il mistero dietro la ghiacciante omicidio di Pierina, avvenuto la sera del 3 ottobre scorso nel garage di Via del Ciclamino, dove la vittima fu brutalmente massacrata con 29 colpi di pistola. La telecamera nella farmacia San Martino, alle 22 e 8, inquadra il momento in cui Pierina, al volante della sua panda rossa, si dirige verso il seminterrato. Cosa pensi che Manuela volesse nascondere? Condividi le tue opinioni nei commenti. L'aggressione avviene presumibilmente alle 22 e 15, appena prima delle 22, quando la nuora Manuela, nel suo appartamento al terzo piano con il fratello Loris e la figlia sedicenne, scambia messaggi con il vicino di casa Luis da Silva, l'uomo diventato il suo amante. In una conversazione carica di tensione, Manuela esterna la sua ansia per l'incontro imminente con gli anziani della congregazione, i quali avrebbero dovuto esaminare la sua storia d'amore clandestina con il vicino di casa e il tradimento nei, confronti del marito Giuliano Saponi.